Salve a tutti, numero 6 è dedicato all'esperienza di strega remita Allora, in realtà ci ho pensato moltissimo Io sono passata da strega di gruppo Nel senso che avevo le lune selvagge Ho sempre praticato con loro Ho sempre fatto parte di gruppo Di gruppi, comunque quantomeno di almeno due persone Se si può definire gruppo A venire qua ed essere completamente sola In realtà io penso che la mia intera vita Da quando sono a Londra Sia un po' un'esperienza diciamo da remita E un eremitaggio che sto comunque condividendo con Thomas Che nonostante comunque mi faccia compagnia Non essendo diciamo pagano È da supporto morale Ma ovviamente per questo diciamo è il mio Quindi sono passata da gruppo che mi sosteneva Che erano comunque amiche che vedevo tutti i giorni tra un po' A momenti in cui sono assolutamente sola Da quando sono qui Diciamo che questa mia esperienza da eremita Mi ha insegnato veramente tantissimo E soprattutto per quanto riguarda il tipo di pratica che io voglio Nel senso che prima facendo parte di gruppi Avevo molto l'influenza altrui Avevo molto la necessità di adattare la mia pratica con quell'altrui Perché ovviamente quando si sta con gli altri Un po' come le normali amicizie diciamo Bisogna fare un po' quello che il gruppo vuole Il bene del gruppo E molte volte non riuscivo a fare poi quello che veramente volevo fare io Ma perché comunque li voglio bene Perché mi sono sempre trovata bene Ho sempre trovato una sorta di livello uguale per tutti quanti Che è una cosa fondamentale diciamo della pratica di gruppo pagana Da quando sono qua invece ho imparato a sentire molto di più il tutto A godermi il tempo con me stessa Anche se a volte comunque ci sono sempre problemi personali Che ti portano un attimino a sclerare Ma forse l'esperienza più bella che ho fatto a livello di eremitaggio È stato il mio viaggio in Irlanda Vi ho sempre detto sì poi ve ne parlerò Poi ve ne parlerò In realtà il viaggio in Irlanda è sempre stato una cosa che avrei voluto fare Diciamo E al tempo quando decisi poi di prenotare i biglietti Era un attimino in forza tra Edimburgo e Dublino Così feci un attimino Dissi aspetta dov'è che voglio veramente andare Scelsi Dublino Partimmo il Non mi ricordo Mi sembra che era tipo il 13 E tornammo il 15 Una cosa del genere Perché il compagno del mio ragazzo era il 14 Quindi dedicammo poi la giornata del 14 A la cosa che poi effettivamente fa parte della mia esperienza da strega remita Perché andammo alle scogliere di Moher Quella che vi ho fatto vedere nei video E lì ho Non lo so come poterlo descrivere a parole È un mix di Tornare a casa dopo Tipo che ne so che sei mancato per mesi Ha sensazione di pace totale Nel senso che io sarei potuta rimanere lì per tutto il resto della mia vita E mi ricordo precisamente Questa è la cosa del tatuaggio che vi volevo raccontare Che una volta arrivata alle scogliere Mi sono Mi sono non lo so Assolutamente tuffata In quello che era l'energia di quel posto E mi sono sentita come per la prima volta Nel posto giusto al momento giusto Perché io ho sempre vissuto la mia vita Sentendomi un pochino in più Sentendo Dovendo sempre pesare quello che dicevo Perché altrimenti non ero soddisfatta di me Arrivando in quel posto mi sono sentita Come se fossi la benvenuta Come se quel posto stesse aspettando me In quel momento della mia vita Come se fossi pronta ad avere questa lezione Diciamo Arrivo in quel posto Sento questa energia infinita E mi sento appartenente a quei luoghi Proprio come se io fossi nata e cresciuta lì E è come se tornassi a casa dopo dieci anni e mezzo Che non tornavo a casa Che rivedi quei posti E ti senti come se li avessi già visti Diciamo E dopo le scogliere Dopo proprio le scogliere Diciamo quelle là che vi ho fatto vedere nel video Andiamo sulla spiaggia Dove ci siamo stesi E io ho avuto Un'epifania Nel senso che Mi son detta Io appartengo a questo posto Io mi sento parte Di questa energia Io mi sento assolutamente Bene E viva Con tutta questa energia Con Gli spiriti di questo luogo Con questa tradizione Celtica Che ogni volta dico No non è la mia Non è la mia Ma in quel giorno Mi sono sentita come se Avessi avuto una sorta di Feedback Come se Come se l'energia mi avessero detto Tu devi seguire questo luogo Questo posto Devi viverti questa cosa E in questo momento In quel momento Ho detto Io devo Comprarmi un simbolo Che mi ricorderà sempre Questa cosa Perché io sono una di quelle persone Che nel momento in cui Poi si abbatte un po' Tende quasi a dimenticare Delle esperienze belle Che ha avuto No? Quindi ho detto Devo comprarmi un anello Un simbolo Che posso vedere Ogni giorno E ricordarmi Di questa mia connessione Con questi luoghi Con queste energie E poi mi sono ricordata Che io al lavoro Non posso portare Nessun gioiello Nessun ciondolo Nessun niente Per una questione di Igiene sanitaria E cose così E mi sono detta Io mi voglio fare un tatuaggio Io mi voglio tatuare Il mio triskel Mi voglio Voglio ricordarmi ogni giorno Quando lo vedo Quando lo sento Quando lo percepisco Che io faccio parte Di questo luogo Io sono Sono parte di tutto questo E io non sono mai stata Una persona sicura Nella mia vita Mai Ho sempre messo in dubbio Qualunque cosa Ma in quel momento Della mia vita Io ero Come se Per la prima volta Fossi sicura Di una cosa E la sensazione Era bellissima Perché sono sempre stata Sempre stata insicura Di qualunque cosa Quindi Per la prima volta Essendo così Piena di sicurezze Ho detto No io lo devo fare E così iniziai a mandare 3500 miliardi di email Per cercare uno studio Che facesse tatuaggi E quindi Ero arrabbiatissima Perché non ne trovavo nessuno Finalmente Ebbe la risposta da uno E il giorno dopo Poi andai a tatuarmi Me lo sono tatuato Dietro il collo Perché possa Diciamo Sempre proteggermi Le spalle Mentre Diciamo Segui Diciamo Il mio sentiero E quindi Diciamo che come Forse questo è stato Anche se non Ho fatto nessun rito Per questo vi dico Che molte volte I rituali Non sono la cosa più importante È stata un'esperienza Di vita Che mi ha cambiato Psicologicamente Quindi Mi Mi sento più sicura Di me Perché ho avuto Questa Questa esperienza Così forte Che non era Data da nessun rituale Quindi Come vi dico sempre I rituali non sono La cosa più importante Vivetevi la vostra vita E lasciatevi andare Seguite il flusso Diciamo Di dove vi porta la vita Ovviamente Non andate a fare cose negative Perché la vita In teoria Vi porta lì Ovviamente È stato sempre Con gli occhi aperti Però diciamo Che questa è Finalmente La mia esperienza Diciamo Irlandese E non vedo l'ora Di tornarci In realtà E da lì Poi si sono spiegate Tante cose Perché Lì Praticamente È tutto connesso Con il green man La figura Diciamo Di Di Kernunnos La divinità femminile Di cui io sono sempre stata legata È Danu Ed è legata alle acque Ed è una divinità irlandese Quindi È tutto che praticamente Prende Diciamo Posto Come deve essere Quindi E quindi questo Io vi lascio un bacione E ci vediamo alla prossima Mua Mua Diciamo